Avete visto cosa è successo in tv? Abbiamo avuto celebrazioni a reti unificate. Pensate! Hanno certificato che in 72 ore Berlusconi è cessato, citato ogni 4 minuti, 72 ore. E' stato un parossismo celebrativo, un'orgia celebrativa. Tra l'altro mi hanno attaccato perché non sono andato a funerale. Noi non siamo i popiti! Noi sappiamo distinguere il controllo che si deve ai familiari, ai cari, a coloro che in queste ore non stanno piacendo perché l'hanno amato. Ma attenzione! Non ci chiedete di confondere la nostra storia, i nostri principi, i nostri valori con la parabola politica che Berlusconi ha interpretato. Noi vogliamo rispettare tutti, ma noi riteniamo che sia stato un campione di virtù pubbliche. E non ce lo fate passare! Non bastano opinionisti, commentatori, col master in tasca in adulazione a riscrivere la storia! La storia noi la scriviamo con i riscontri documentali, con le sentenze giudiziali e nessuno ci può impedire di continuare la nostra parabola politica dove a fondamento della stessa non ci può essere chi ha contribuito al degrado dell'etica pubblica! Grazie! 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 Grazie!